Tutto pronto in Piazza Duomo per il concertone di Capodanno, nel corso del quale si sibiranno Carmen Consoli e l'orchestra popolare della Notte della Taranta, una produzione unica pensata apposta per Catania, con l'idea di un meridione che scaccia via i pensieri negativi e si rimette in piedi con allegria, danzando. Il Comune informa che la metropolitana di Catania sarà in servizio gratuito dalle 18 di oggi fino alle 2 del mattino di domani. Per garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza di quanti parteciperanno al concerto di Capodanno, il sindaco ha inoltre messo un'ordinanza che vieta ai gestori di pubblici esercizi delle zone del centro storico, dalle 15 di oggi alle 6 di domani, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro provvedendo alla distribuzione in bicchieri monouso.